Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 . Ciao. Ciao. . 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie. 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 Ciao. 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 Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda, guarda. ciao 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 Buonasera hai visto? cacallo bianco che bello guarda guarda vuoi andare vuoi andare a Michelino a fare un giro sul cacallo vuoi andare vuoi andare vuoi andare e porta Antonio sul cacallo andiamo sopra guarda vuoi andare portalo sul cacallo e c'è anche la fila no vedete guarda però sono differente pure la fila hai visto? hai visto? quant'è Michelino a fare una fila sul cacallo Antonio? non ci vogliono e Giuseppe è più grande sei in base in caso di degli altri no non si è andata a caricare mi sa che non usciva non posso colpire perché Giuseppe diceva che doveva il panico come diceva che stava andando alla france non c'è 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 dai sul cacallo mi chiedi no ma questo è l'ho scritto in realtà ma quello che fa è il ciocolano eh ma questo è quello che ha il ciocolano ma queste loro reazioni sembrano l'artvegas eh proprio accecanti mamma mia Vieni qua! Vieni qua! Rinchio! Che rincoglione! Che becca! Rinchio la che fa le piccole! Ciao! Aspetta mamma, ti dobbiamo! Ci dobbiamo! Ci dobbiamo! No! 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 Il cacallo è qua! Vieni qua! Il cacallo è qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! E cacazzino! Ma non è che avete messo quanti cazzotti bottoni? Vieni qua! Vieni qua! No! che puzza mamma santa la pappa buona mi chiede davanti al negozio che stanno lasciando certe cose che si sente pure dai chi sono? che sta? buonasera dove l'ha uscita? atto 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 no non è cosa per te tu me la metti allo spazio no 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 l'ultimo 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 agg l'ultimo per la la arco giudici che non può pure la prima volta che come la paura già ii ii e l'arco il il via no e il 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 g 8 4 se il volo il spazio non un po' non posso uscire che ti ha fatto? vado di su non volevi dire mi fanno uscire così però sicuro permesso allora noi siamo ci stiamo muovendo e posso che no che cagallo rivelino no fermatevi la fermatevi al bar allora la finanza si fa la finanza si fa la finanza si fa la finanza si fa i nostri giovani non guarda sceglie sotto la finanza guarda un sceglie si si Allora qui noi stiamo andando a fare i panini. Allora qui noi stiamo andando a fare i panini. Allora qui noi stiamo andando a fare i panini. Allora qui noi stiamo andando a fare i panini. Allora qui noi stiamo andando a fare i panini. Allora qui noi stiamo andando a fare i panini. Allora qui noi stiamo andando a fare i panini. Allora qui noi stiamo andando a fare i panini. Allora qui noi stiamo andando a fare i panini. Allora qui noi stiamo andando a fare i panini. Allora qui noi stiamo andando a fare i panini. Allora qui noi stiamo andando a fare i panini. Allora qui noi stiamo andando a fare i panini. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 Grazie 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 a tutti. 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 a tutti.